Il disegno di legge ZAN contiene errori e anche pericoli nel merito, questa è la mia opinione, ma non è per questo che è stato affossato, non è per questo che non procede avanti. Il disegno di legge ZAN non innova, non introduce il fatto che in Italia non si possa insultare, perché questo è legge già da decenni, però non parliamo poi dell'ipotesi che non si possa picchiare o intervenire con la violenza, figuriamoci, anche solo insolentire, sono tutti reati da tempo. E comunque è diventato una bandiera e in quella bandiera la sinistra, in particolar modo il Partito Democratico, ha scommesso la possibilità di farla passare a maggioranza come è normale, come è giusto, come è del tutto legittimo che sia in un Parlamento Democratico. Se hai la maggioranza puoi far passare un disegno di legge e farlo diventare legge, solo che la maggioranza non c'era, questo è il punto, e non c'era per due ragioni, intanto perché non c'era in natura, nel senso che quel disegno, molti diversi all'interno della stessa sinistra, non lo condividevano, continuavano a dire sì, vabbè, lo voto, però, però qua, però là, a voto segreto qualcuno è andato dall'altra parte. E poi perché dietro questa idea c'era comunque un disegno politico di autosufficienza della sinistra che altri all'interno della stessa sinistra non condividevano. Ergo il disegno di legge non è passato. La destra che ha votato contro, credo che solo marginalmente l'ha potuto fare sulla base del contenuto. Il primo istinto è stato quello di rompere il giocattolo che la sinistra si era costruita. Adesso, siccome tutto questo sta alle nostre spalle, era largamente prevedibile, l'avevamo detto per tempo, ma a questo punto sta alle nostre spalle, la domanda è, ma la partita è chiusa, sul tema, sul merito che si voleva regolare con nuova legge, non lo è chiusa affatto, ragionando, mediando, perché la politica in democrazia è mediazione. La mediazione non è una cosa sporca, è una cosa saggia. Naturalmente l'importante è non mediare barattando le proprie idealità, oppure barattando una legge in cambio di un beneficio economico, quello è un reato, anche quello. Ma ragionando, e con il compromesso, e con la saggezza, su un disegno di legge che non introduca, perché non si può introdurre, ci sono già le leggi, ripeto, da decenni, quei reati, regolamenti, ma ne specifichi i contorni, e semmai le aggravanti, e il modo in cui si possano perseguire, e meglio ancora, il modo in cui si possano prevenire, su un disegno legge di quel tipo, ci si fa l'unanimità in Parlamento. Passa in 15 giorni tra gli applausi generali. Se questo non capita, è perché invece se ne vuol fare una battaglia di schieramento. Ma se se ne fa una battaglia di schieramento, la mattina dopo non puoi dire che gli altri hanno votato contro la civiltà. Ultima osservazione. Se fai una legge contro l'odio, e c'hai ragione, perché l'odio va combattuto, non è che se uno dice, guarda che secondo me l'articolo 4 è sbagliato, tu gli rispondi, sei un omofobo contro la civiltà. Allora l'odio ti sta in simpatia, perché questo è un modo per odiare, non per ragionare. Dentro quella roba c'è la scritta delle cose che potevano essere pericolose e potevano andare addirittura a essere dei boomerang, perché finiscono con l'essere contro la libertà d'espressione, cioè l'esatto opposto di quello che avevano regolato. Era scritto male. Se quando ti faccio questa osservazione mi rispondi dicendo che sei il fronte dell'inciviltà, questo è un'incitazione all'odio. Non si sente minimamente il bisogno. Non si sente minimamente il bisogno.